Penultima giornata del campionato Under-15 per la Icaro Basket Officina Raneli di Sciacca. Il team del coach Giovanni Monastero ha perso ieri in casa presso l'impianto Sicilia Sport contro i parietà del Marsala, una partita che sicuramente sarebbe stata alla portata dai padroni di casa, che invece hanno fallito e sprecato diverse occasioni per condurre i giochi. 41-58 il risultato finale, frutto di questi parziali 10-17, 14-16 e 6-9 per i trapanesi, ultimo quarto pareggio per 16-16. Questi i migliori marcatori tra i seccensi, Mattia Schittone 24 punti, Federico Bongiovi 7, Enrico Schittone 4, Baldo Stagno 4 e Andrea Infantino 2 punti. Il coach Monastero, nel corso del match e soprattutto nei minuti finali, ha dato spazio a tutta la rosa Under-15 a disposizione. Il calendario degli appuntamenti sportivi con le squadre giovanili resta fitto da qui fino al termine dell'attuale stagione agonistica. Oggi, ultimo di campionato con gli Under-13 per la Icaro Basket, che giocherà in trasferta contro l'Erice, che sarebbe la squadra giovanile della forte pallacanestro Trapani, mentre la prossima settimana si disputerà l'ultima partita di campionato anche per gli Under-15. Domenica 7 maggio, invece, Icaro Basket è in trasferta a Trapani con la categoria degli Scoiattoli, che, oltre a giocare alcuni amichevoli, potrà assistere ad una partita di pallacanestro del campionato di Serie A. Amichevoli sono previste pure per la squadra degli esordienti. Lunedì 15 maggio, ancora trasferta stavolta a Marsala per un torneo rosa, mentre il prossimo 4 giugno appuntamento a Ragusa con i raggruppamenti femminili. Squadre giovanili coordinate, come sempre, dalla società guidata da Giovanni Monastero.